Scopri insieme a Filippa Lagerbach, in esclusiva su Bike Channel, le strade, i percorsi, i borghi e gli angoli più belli del nostro paese. In ogni puntata un nuovo viaggio attraverso le zone più suggestive d'Italia, per scoprire le meraviglie del nostro territorio, conoscerne le specialità e fare incontri curiosi. In Bici con Filippa, un'esclusiva di Bike Channel. In Bici, un'esclusiva di Bike Channel.